Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale oggi ho deciso di portarvi un altro gioco nuovo molto interessante per provare un pochino anche di vedere un po' di varietà sul canale e come avete visto il titolo è molto esaustivo e cerca molto di punzecchiare la situazione allora questo gioco è una sorta, come dice il titolo, un misto tra un Fortnite e un Brawl Stars come logica e grafica molto simile a Fortnite, da dietro anche come tipo di sparo come tipologia di gioco molto simile a Brawl Stars, soltanto che bisogna fare il cattura, le zone la mappa è da ravvicinato, si può vedere anche una mappa dall'alto che io non utilizzo ancora molto bene quindi non la vedrete probabilmente in questo gameplay il gioco si chiama Frag quindi, arriviamo a 300 like, condividere i video, iscrivetevi al canale dei nuovi lasciate la hashtag Frag qua sotto nei commenti per ricevere un colicino e noi andiamo avanti con questo nuovo video io ho già fatto qualche partita per provare 4 vittorie di seguito intanto ci apriamo anche una cassa perché noi siamo esosi taglie, perché questo gioco, molto simile anche ai giochi come Brawl Stars e Clash Royale ha delle carte per il potenziamento e per i miglioramenti e anche per trovarne nuove, che sono gli eroi alla fine di questo gioco quindi molto simpatico, abbiamo anche delle tipologie di eroi da poter utilizzare abbiamo un mazzo da andare a creare con i personaggi che abbiamo e anche potenziarli, in questo caso questo è un personaggio da camping andiamo a potenziare assolutamente un bel migliore miglioria per noi grazie, molto gentile qui prendiamo anche il premio per il potenziamento molto buono e abbiamo anche altri personaggi che abbiamo sbloccato che si potrebbero anche provare ad utilizzare per esempio questo centrale Mechak Knight penso che rimanga in difensiva insomma a metà campo allora, visto che ho tanti attaccanti andiamo prima a migliorarlo vediamo quant'è di energy di costo ho visto anche la tizia che abbiamo trovato adesso che c'ha 6 di costo quindi penso sia enorme a sto punto ok, centrale 6 questo è un centrale 2 vorrei provare ad utilizzare Amelie vediamo un po' dove possiamo metterla abbiamo appunto tanti attaccanti questa è un attaccante normale attacco 3 direi di mantenermi gli attacchi piccoli di costo e di aumentare il centrale dai al posto suo andiamo a provare allora qua dovrebbe esserci anche la possibilità di creare dei club abbiamo anche la possibilità di un gruppo di youtuber perché ci sta anche la possibilità di guardare i video degli youtuber questo non so cosa fa non lo apro perché costa, mi dispiace e queste sono altre casse che ho da parte che potrei mettere a sbloccare che poi apriremo con calma si possono saltare sempre con i video e direi di andarci a fare un paio di partire e a provare il gioco abbiamo anche la fanbase se vogliamo mettere il nostro canale direttamente qui nella schermata infatti possiamo cercare i video delle altre persone c'è un feed dove postare i video interessante questa cosa missioni apri adesso ok abbiamo anche altre casse da aprire vediamo un po' cosa esce soldini buono due diamanti niente male poca hunter nuovo ok anche personaggi nuovi che cos'è questo? jenkins personaggio camping raro mamma mia quante carte nuove è da cominciare a controllare meglio la situazione forse è gratis la prossima tra tre ore abbiamo anche giustamente seguaci su instagram condivisioni con gli amici descrizione al canale forse è di doro che si potenzia e tutto il resto andiamo a farci una bella partita vai combatti ok ecco la nostra prima battaglia giustamente ancora non mi sono chiamato mordug potrebbe essere leggermente laggoso ma niente di eccezionale vai cominciamo utilizzando questo personaggio attaccante nel nostro mazzo ok siamo un attaccante quindi dobbiamo distruggere le basi avversarie no sono uno scemo ok ricordatevi che al centro c'è una zona divisa dall'acqua è meglio non morirci a random a sto punto vado a provare direttamente il centrale raga troviamo il nostro centrale giustamente la mira con il destro olle c'è via le botte quello là sopra ci piace si è buttato in acqua no ancora vivo buongiorno ok anche uccidendo prendiamo dei punti per la nostra squadra non soltanto attaccando le loro torrette le loro basi boom mordughino comincia a fare uccisioni abbiamo anche delle abilità che si tirano con la E in questo caso abbiamo una sorta di grabbino ok questo nostro personaggio a 6 è una bestia è anche molto grossa oserei dire mamma mia mordughino che sta creando non so perché mi si sta muovendo a sinistra ok tu ci muori di nuovo anche tu damn allora io direi di provare ad attaccare con il centrale non è facilissimo muoversi all'inizio e bisogna prenderci un po' la mano ok questo maledetto stanno tutti e due qua a menamme eh beh giustamente prepari allora proviamo con un altro attaccante mettiamo un attaccante 1 allora questo dovrebbe avere il bazooka ok allora c'ha anche l'abilità passiva particolare esplosioni di missili che non è male in questo caso però questa mi ha ammazzato malissimo da vicino ok mordughino non è così bravo come sembra ok prendo la centrale perché questa era una bestia questa è una bella bestia è anche molto resistente ok 700 a 621 non è il top ma possiamo farci qualcosa allora se non ero questa roba che si prende dovrebbe arrivare anche alla fine della partita oh guarda questo maledetto mamma mia quanto è potente però ebbe ebbe il vecchietto con lanciamissili in difesa fa il suo perché quindi proviamola anche noi e rimaniamo un po' più difensivi la vediamo un po' da dove vogliono attaccare ok c'è quello col bazooka lì che se sta da c'è qualcuno che arriva in attacco cattivo ah no io c'ho quello di ghiaccio ok quello lì tirava le fiamme sinceramente ok ti ho gelato però sono morto uguale ah forse mi hanno ammazzato alle spalle probabilmente vai riutilizziamo la centrale che questa spacca di brutto se prende se prende boom mamma mia ok abbiamo trovato una carta niente male oserei dire allora lì c'è uno che lo prendiamo da qua giù e forse lo ammazziamo pure non è vero si era un po' distratto o un po' fermo oserei dire con l'indifesa lo stiamo colpendo malissimo ok l'abbiamo ucciso mi sa ho visto un piccolo rallenty brutto brutto questo lo possiamo ammazzare anche no oh posso scappare è un grabbino che scappa raga ok c'è un po' di lag mi scuso ovviamente dipende anche dal sistema che utilizziamo stiamo a vincere malamente sembrerebbe tu ci mori subito mi dispiace vittoria qualcuno ha attaccato le altre difese la partita è finita interessante interessante una vittoria è andata molto bene oserei dire ok frag massimi di seguito 4 man vp p e stagione 9 e 90 e ci prendiamo un'altra bella cassa vai punti classifica stagionale soldini punti missione e dei diamanti per aprire questa cassa no scusate questa cassa quindi si apre soltanto con i dindi salvatanaglio salvatanaglio è piena sufficienza da essere aperto apri adesso per raccogliere i tuoi diamanti ma non voglio utilizzare gli euro scusatemi allora vado avanti facciamone un'altra vediamo un po' che cosa succede e se ci riusciamo ok le partite si trovano molto velocemente e partono subito ok questa volta mi ha fatto partire col tizio col bazzucone che non è male però giustamente so sempre un paio di colpi alla botta prende da molto lontano per carità però è sempre un bazzucone che non è facile da utilizzare perché il movimento laterale è da tenere un po' più a bada delle volte c'è se sbaglia parecchio ok vedo gente che arriva da qui potrei provare un'esplosione di missili che non è che non va in porto ma oh mordughino che fa la killona che bellezza penso che questo gioco il giocato col joystick sia anche meglio poi c'ha un pochino di autotrack nel senso che quando vede che stai comunque sul tuo bersaglio cerca di seguirlo quindi è abbastanza comodo ecco sono morto male contro il suo difensore però siamo già un po' in svantaggio 714 816 quindi hanno qualcuno di intelligente dal loro lato probabilmente quell'attaccante lì che muore ok andiamoci a prendere ste gemmine diamantini che si vanno ad accumulare soldini che sono sempre buoni ok vediamo un po' allora quello sta bello in difesa laggiù e noi da qua lo prendiamo che vuoi fa con me che c'hai da di ovviamente mi sono un attimo incastrato io ah è cascata ah non è cascata si è difesa chifosa ok boom le piacerebbe boom un'altra kill per morduchino allora mi sa che col joystick mi troverei un tantino oh proprio un faccia 10 no alle spalle no però è brutta persona sei ok attacco te attacco la base sbam una distrutta direi di partire direttamente aggressivissimi ci abbiamo poca vita potremmo morire male ma noi non ci frega niente andiamo direttamente su quella più cicciona mentre loro stanno distratti morduchino attacca qua non mi attacca perché oh è buggato un tantinello ah no c'è la barriera c'avete ragione bisogna rompere prima quelle laterali e morduchino nabbo giustamente attacco alle spalle alla loro base guardate che stile dopo non me ne frega niente boom ok questo no il difensore è tosto però eh devo muovermi più laterale per evitarlo bene questo va giù oh miseria il devasto che stiamo creando in questa partita eh però io mi sbaglio sempre col movimento del mouse perché è libero dovrei mettere impostato col destro come ho fatto con brawl se lo faccio probabilmente mi troverò molto comodo ok punti per due devasto 581 a 0 la partita è finita un'altra vittoria per morduchino bam ok frag massimi di seguito 7 man vp lui giustamente p stage 9 e 90 mamma mia punticini tanti dindini tanti punti missione e ci andiamo a prendere anche un pochino di diamantozzo allora sta fanbase diventa un donatore ottieni il tuo distintivo donando non so che cosa primi te stesso posta un video sicuramente posterò questo video ragazzi anche in questa lista e chi lo vuole vedere se lo va a guardare non sarebbe mica male interessante allora ragazzi ditemi se questo gioco vi è piaciuto può essere una nuova serie del canale se si può affiancare a qualcosa o a basso sostituire qualcosa sinceramente non è male un giochino molto simpatico molto veloce e sempre abbastanza competitivo arriviamo a 300 like condividere il video iscrivervi al canale se no e lasciare hashtag frag con sotto i commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo video se lo volete grazie a tutti